Buonasera a tutti, penso che possiamo iniziare. Benvenuti a questo nuovo incontro organizzato dall'Ufficio Educazione Permanente della Provincia Autonoma di Bolzano, dal titolo Il Metodo Spreco Zero. Sono con noi il professore Andrea Segre, professore ordinario del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell'Università di Bologna e la dottoressa Sonia Brate dell'EcoInstitute. Vi ricordo che l'intervento è in streaming sulla pagina Facebook del Centro Trevi e sarà messo poi a disposizione anche sul canale YouTube di Centro Trevi. Potete, se avete domande e volete intervenire, potete scriverle direttamente in chat e sarà mia cura poi passarle ai relatori. Quindi, prego, dottoressa Brate. Sì, bene, buonasera. Sono contenta che ci sono così tanti partecipanti e appunto alla serata dedicata al tema dello spreco alimentare, il metodo Spreco Zero, che è anche il titolo del libro del professore Segre. Per iniziare, appunto, abbiamo pensato che la domanda sia interessante, ma Spreco Zero, il titolo del libro, ma è veramente possibile, professore? Sì, secondo me è possibile. Se devo dire, è il titolo di una campagna che abbiamo lanciato ormai dieci anni fa e che si poneva un obiettivo molto alto con il numero più basso, appunto, azzerare lo spreco. Poi è vero che negli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda ONU al 2030, diciamo più, fra virgolette, modestamente, il mondo si è posto di dimezzare lo spreco alimentare, così ha fatto anche l'Europa e del resto è partita la campagna Spreco Zero. Quando andammo al Parlamento Europeo nel 2010, io sono circa vent'anni che, diciamo, col mio gruppo di ricerca, che poi si è costituito in uno spin-off dell'Università di Bologna che si chiama Last Minute Market, oggi è una rimpresa sociale, che lavoriamo facendo ricerca e provando a contribuire al contrasto dello spreco alimentare. Siamo partiti alla fine degli anni 90 e dopo dieci anni dedicati soprattutto al recupero di cibo, abbiamo capito che però c'era qualcosa che non funzionava e volevamo indagare dove poi si spreca veramente. Facendo un'indagine a livello europeo è venuto fuori che il grosso sta a casa nostra, il recupero non si può fare, quindi bisogna fare prevenzione. Da lì siamo andati in Europa alla Commissione, a partire dalla Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, abbiamo portato un documento, credo il primo documento internazionale 2010 e nel 2012 il Parlamento Europeo ha adattato una risoluzione, votata in plenaria a Strasburgo, dove chiedeva, sul nostro input, di dimezzare gli sprechi 50% nel 2025. Poi questo è entrato nella strategia, diciamo, più recente in quella dell'ONU. Ecco, noi abbiamo voluto essere più ambiziosi, diciamo quasi un'utopia, ma per muovere un po' anche le nostre coscienze, quando soprattutto abbiamo capito che è davvero una questione che è legata ai nostri comportamenti. Cioè tutto ciò che si perde poi si spreca, pensiamo ai campi. Molte mele non si raccolgono perché non c'è il diametro giusto, perché non c'è mercato. Faccio un esempio a livello italiano, non mi riferisco in particolare all'Alto Adige, dove c'è una situazione un po' diversa, ma comunque rimane del non raccolto in campo. L'industria, che sbaglia un'etichetta, la distribuzione, dove noi non acquistiamo un prodotto vicino alla scadenza. Ecco, lì ci sono delle perdite più che degli sprechi. Si possono recuperare, abbiamo attivato appunto un progetto, la Spinut Market, ce ne sono poi tanti altri in Italia, che recupera affini caritativi per contribuire ad aiutare a sostenere gli indigenti, che peraltro in questo periodo stanno aumentando. Ma poi studiando a partire dal 2010, abbiamo capito che è una questione molto legata a dei comportamenti sbagliati, spesso inconsapevoli. E quindi abbiamo iniziato a lavorare su questo, a fare prevenzione. E il Metodo Spreco Zero, che è il titolo del libro, è un manuale in realtà che è uscito l'anno scorso, dove abbiamo cercato di raccogliere tutte le buone pratiche per, diciamo, aiutarci a cambiare il nostro comportamento consapevole. Ma dico anche delle cose molto banali. Il primo capitolo è dedicato, anzi il secondo, perché nasce da una ricerca che abbiamo fatto per il Ministero dell'Ambiente, che ci ha chiesto di quantificare lo spreco domestico, perché anche in rete si trovavano delle cifre un po' così, casuali forse. Allora ci hanno chiesto di stimarlo. Ed è venuto fuori un dato. Per però raccogliere questo dato, abbiamo intervistato 400 famiglie italiane, un campione rappresentative, con un questionario molto analitico per misurare le quantità che venivano acquistate, poi gettate via. E io leggendo il questionario, sorprendendomi, ho capito che ribaltandolo, era, come posso dire, una specie di bignami, come si dice, cioè di piccolo libro, delle cattive pratiche. Lì si capiva dove sbagliamo sostanzialmente, ma anche semplicemente nel leggere una scadenza, per dire, ecco, ho pensato, lo ribaltiamo e lo facciamo all'inverso, cioè quello che è una cattiva pratica, lo mettiamo alla buona pratica. Allora, il primo giorno, il lunedì, compili questo questionario e poi è come se ti mettessi a dieta, che si dice sempre, mi metto a dieta lunedì. No, non metterti a dieta, non serve, ma per mangiare bene o non sprecare, parti dal, appunto, dal compilare il questionario e poi ogni giorno della settimana abbiamo affrontato un tema, il primo, fare la lista della spesa, che sembra una banalità, ma non è così banale, per arrivare poi alla domenica, con l'obiettivo di avere, ecco lo spreco zero, il bidone della spazzatura vuoto, ovvero no cibo buono dentro, ma raccolta differenziata, cioè la carta con la carta, la plastica con la plastica, però non ci deve essere neanche un avanzo, non ci dobbiamo sbagliare di niente ed è assolutamente possibile provare per credere, io l'ho sperimentato su di me, e funziona. Sì, bene, infatti io leggendo il libro, sfogliandolo, ho trovato tante indicazioni molto utili, tra l'altro ho visto che lei fa anche un discorso un po' economico, nel senso che non è solo una questione di coscienza o di ambiente, ma c'è anche il tema del, non solo spreco alimentare, ma anche, insomma, costi che ne nascono. Esatto, allora, bella domanda, come si dice del resto, io sono un agroeconomista, un economista agrario, e quindi ho voluto insistere in questo libro, mi verrebbe da dire un po' il mio ultimo tentativo, perché le ho provate tutte, però c'è una buona notizia, e magari ve la do dopo, con la parte economica, perché vi devo dire che ho provato, e anni che, diciamo, insistiamo, adesso parlo al singolare, ma in realtà è un gruppo che si è molto ingrandito, vorrei dire una comunità, ieri abbiamo avuto un momento anche molto importante, perché in questa campagna, ieri abbiamo dato, diciamo, il premio Spreco Zero, ma veramente a tante iniziative, enti, associazioni, imprese, che promuovono una società che si fonda sull'economia circolare e sullo sviluppo sostenibile, a partire dal contrasto allo spreco. Poi, se volete, vi do qualche esempio, perché ogni anno sono colpito da quante iniziative ci sono, ed è quasi, come dire, con imbarazzo, non sappiamo quale progetto scegliere, c'è una giuria di esperti di cui faccio parte anch'io, però io ho tentato nei miei lavori precedenti, anche nei progetti, diciamo, di comunicazione, prima di agire sulla leva ambientale, perché gettare via del cibo significa gettare via degli ettari di terra, degli ettolitri di acqua, dei kilowatt di energia, perché dentro il cibo si misurano, ecco, le impronte ecologiche, l'impronta carbonica, e a livello globale, per dare un dato, diciamo, certificato dalla FAO, un terzo del cibo che si produce non arriva alle nostre tavole e produce un inquinamento, perché usa delle risorse e poi deve essere smaltito, che messo assieme è il terzo inquinatore, il terzo produttore di gas climalteranti dopo la Cina e gli Stati Uniti. Cioè, adesso è forte. Io abbiamo calcolato tutti i dati per l'Italia, abbiamo detto che, diciamo, è come sprecare il lago di Zeo, ma io non ho visto un gran risultato. Non ci prende. Cioè, il fatto che io ti dica che c'è del capitale naturale, che butti via appunto della terra, che inquini, io non ho preso molto. Poi, ad un certo punto, ve lo ricordate, il Papa ha fatto un tweet, era il 2015, l'anno di Expo, il buttare via il cibo e come rubarlo alla messa dei poveri. Mi parla abbastanza forte come frase. Pensate, il Papa, il Papa, appena scritto una bellissima enciclica che l'ha laudato sì, è un messaggio globale. Ma non è che abbia preso molto, cioè l'aspetto etico, morale. Cioè, noi stiamo buttando via del cibo, ancora buono, che potrebbe nutrire qualcuno. Anche lì, con la FAO, abbiamo fatto dei calcoli molto teorici. Se quel terzo della produzione che viene gettata via o si perde, fosse recuperata, potrebbe dar da mangiare a più di 2-3 miliardi di persone. Questo era un po' il range del calcolo. Non ha preso molto. Guardando il diario dello spreco, invece, un'altra illuminazione che mi è veduta, perché l'abbiamo quantificato in grammi e poi anche abbiamo trovato un valore medio. Insomma, alla fine la cifra era intorno a 400 euro all'anno. Questa può cambiare, può essere un po' di più, un po' di meno. Le medie contano, però allora gli dicevo, ma 400 euro, cosa potrei fare con 400 euro? Io saprei cosa fare, non ve lo dico. Probabilmente lo saprete anche voi. Allora, infatti, il sottotitolo, adesso ce l'ho qui davanti, in sette giorni, sembra un libro sulle diete, impari a non buttare più cibo, aiuti l'ambiente, quindi c'è sempre il tema, e risparmi centinaia di euro. Non ho messo la cifra giusta, perché potrebbe essere un po' di più. Ecco, la mia speranza, diciamo, era, quando è uscito a settembre dell'anno scorso, era forse, in effetti, devo dire che il libro è andato molto bene rispetto a quelli che sono i saggi, poi pubblicato da Rizzoli con un editor importante, ma soprattutto la mia soddisfazione, devo dire, è stata durante il lockdown, che non ci ha soddisfatto molto, perché siamo stati a casa, ma c'è stata una grande attenzione al cibo. Noi abbiamo fatto dei monitoraggi per capire il nostro comportamento, abbiamo sprecato molto di meno, vuol dire che la cucina a casa, lo stare a casa, siamo forse ingrassati un pochino, perché non ci siamo mossi tanto, tuttavia le letture sono aumentate, e mi sono arrivati tanti messaggi, perché c'è bisogno di conoscenza. Adesso dico delle cose che sembrano manali, ma la lettura dell'etichetta, la scadenza, quel consumarsi entro, preferibilmente entro, il trasporto, adesso non entriamo nei dettagli, perché sennò poi il libro non serve a niente, diciamo tutto qui, scherzo, se poi avete domande da farmi sono ben disponibili a rispondere, però, fino a come si trasporta la spesa dal luogo di acquisto fino a casa. Ecco, una analisi, diremmo così, molto puntuale e ricca, diciamo, di informazioni, fino a come differenziare, diciamo, i rifiuti, che ci aiuta semplicemente a essere consapevoli, a sapere quel che dobbiamo fare. Ecco, durante il lockdown, poi io ero anche più disponibile, sempre a casa, mi sono arrivati tanti messaggi e ho visto che c'è voglia, diciamo, di sapere. Poi per la fretta, invece, diciamo, in questi anni siamo stati poco attenti. Quindi questo, secondo me, questo periodo, in tutta la sua negatività, l'aspetto legato al cibo, al comportamento corretto dal punto di vista alimentare, può essere quel bicchiere mezzo pieno, diciamo, poi da mantenere, magari un buon vino dell'Alto Adige, da mantenere anche dopo. Sì, assolutamente. Infatti, il libro, che mi ha anche confermato una cosa che abbiamo notato anche nei nostri progetti di Eco Institute, che comunque gli italiani ci tengono moltissimo al cibo e quindi anche acquistano cibo di qualità, sono anche disposti a spendere di più e stanno anche attenti al cibo regionale. lei lo conferma e quindi qui abbiamo già comunque un target degli utenti che sono già molto sensibili al tema. Quindi credo che comunque possa essere un buon punto dove iniziare per appunto convincere a questa e credo che anche il fatto di cucinare a casa bene, con cura e con attenzione sia una cosa anche molto radicata nella nostra cultura. forse è un po' andata persa con, come diceva lei, a causa della fretta, ma crede che adesso forse in futuro si può riavviare un po' questa cultura che noi comunque abbiamo? Ma c'è però diciamo un aspetto negativo che prima di continuare questo dialogo vorrei sottolineare, perché noi abbiamo fatto durante tutto l'anno un monitoraggio continuo, abbiamo un osservatorio che si chiama sempre nell'ambito della campagna Spreco Zero Waste Watcher è un osservatorio sullo spreco domestico che abbiamo attivato qualche anno fa prima di Expo e poi in realtà guardiamo i comportamenti alimentari. Allora abbiamo notato quello che avete notato anche voi, questa attenzione al cibo, questa diciamo attenzione alla qualità del prodotto rispetto agli acquisti, al prodotto sano, addirittura alla dieta mediterranea, poi magari approfondiamo questo perché abbiamo fatto uno studio ad hoc molto interessante in termini di risultati però c'è un roverso della medaglia, io l'ho chiamato food divide, non mi veniva altro, il divario di genere, il divario economico perché dall'altra parte diciamo noi stiamo parlando di chi ha accesso al cibo, di chi può andare a fare la spesa, di chi ha una casa per dire io diciamo col progetto Last Minute Market con questa impresa sociale continuiamo a seguire i progetti caritativi di recupero di cibo in molti diciamo in molte realtà italiane e il numero di poveri economici e di poveri alimentari che vengono assistiti è aumentato in modo esponenziale siamo oltre 4 milioni di persone quindi questa attenzione al cibo che noi abbiamo visto che ci stiamo questo c'era anche prima cioè quello che sta succedendo adesso durante il lockdown c'era anche prima non è causa del lockdown lockdown la pandemia la crisi ha polarizzato ulteriormente questa situazione quindi da una parte un eccesso di attenzione che però è molto legata alla percezione che si ha poi la realtà rispetto a quello che mangiamo realmente è un po' diversa magari lo possiamo approfondire e dall'altra il bicchiere mezzo vuoto dove una parte ancora una platea ancora più ampia della popolazione deve essere assistita allora credo che noi a partire dallo spreco che è un ottimo argomento per vedere il rovescio positivo della medaglia dovremmo comunque provare diremmo così a riequilibrare questo sistema e a portare diremmo così noi stessi il paese le regioni le province verso un maggiore equilibrio diremmo così quindi diciamo va bene l'attenzione da una parte verso il cibo buono assolutamente cioè questa è la nostra frontiera ma tiriamo su anche diciamo quella parte bassa perché quella parte bassa che non ha accesso al cibo poi si nutre di cibo cattivo di cibo spazzatura e questo fa male all'ambiente a monte perché viene prodotto male ma alla nostra salute e basta guardare diciamo il livello di obesità in particolare dei bambini per capire che c'è qualcosa anche prima che nella nostra alimentazione è squilibrato e dovrebbe essere un'attenzione del nostro paese dei nostri governi nazionali locali perché è su questo che ci giochiamo il futuro ma banalmente chi sta male poi aumenta la spesa sanitaria e oggi noi sappiamo che la spesa sanitaria diciamo è importante anche perché abbiamo un'emergenza e va tutto in quell'emergenza lì ma c'è anche il resto naturalmente e se accentuiamo il resto poi abbiamo meno per l'emergenza io insomma è anni che lo scriviamo lo diciamo purtroppo senza grandi risultati ma sul cibo si gioca una buona parte del nostro futuro assolutamente volendo tornare un po' ancora alle indicazioni che dà nel libro anche cose appunto come diceva lei che possono sembrare banali però magari se le indichiamo un po' come era anche detto la lettura delle etichette per esempio poi scoprire il frigorifero come usare bene questo questo frigorifero di non perdere nei meandri dell'ultimo angolo del frigo qualcosa che potrebbe scadere oppure altri piccoli accorgimenti che possono già aiutare molto a evitare questi sprechi ma adesso per dire siamo andati dal fare la lista della spesa in funzione di quello che realmente mi serve quindi non ha importanza dove vai a fare gli acquisti puoi andare dal contadino puoi andare al mercato al negozietto sotto caso anche al supermercato all'ipermercato però devi sapere prima cosa ti serve è inutile comprare di più che poi lo lasci scadere nel frigorifero quindi abbiamo cercato di fare proprio un percorso molto semplice per compilare una cosa che sembra banale che molti non fanno in realtà e arrivi anche al consiglio di dire vai a fare la spesa a stomaco pieno perché se vai a stomaco vuoto per dire poi la lettura delle etichette che sembra molto banale poi le etichette scritte tutto piccole pieno di cose non capisci e magari ti sfugge la differenza fondamentale fra da consumarsi entro un prodotto fresco e scade quando c'è quella data lì poi sai che c'è una tolleranza lo yogurt non è che a mezzanotte e un minuto del giorno in cui scade i fermenti lattici si suicidano tutti contemporaneamente c'è un decadimento lento se lo conservi bene sai che c'hai una minima tolleranza è anche specificata fra l'altro e nel libro si trova quando hai un prodotto diciamo dove c'è scritto pensate a una confezione di pasta da consumarsi entro lì la ditta che la produce ti dà una garanzia che entro quella data quel mese potrebbe essere anche un anno il prodotto se conservato bene ma se vai oltre di un giorno una settimana non è diciamo un pericolo bisogna stare attenti con la sicurezza alimentare per arrivare poi appunto al frigorifero anche lì sembra banale ma questo è l'otrodomestico che abbiamo tutti in casa che ha cambiato le nostre vite perché possiamo conservare i prodotti in realtà viene dai più considerato una sorta di stipatoio cioè dove tu scarichi e butti dentro tutto quello ecco non è così perché diciamo ci sono delle temperature diverse con dei semplici consigli diciamo che sono stati poi redatti con degli esperti il libro è a nome mio ma poi nel libro è specificato bene chi ha contribuito a scrivere i vari capitoli ecco c'è molto semplicemente dove mettere i singoli prodotti non fatemi le domande ragazzi che mi state ascoltando perché io non risponderò ve lo leggete perché io cioè non cioè lì voglio dire veramente poi ogni volta ma la differenza fra questo e quest'altro ho scritto un libro è lì se volete leggerlo lo leggete se no vi informate un'altra parte fatemi altre domande lo dico prima perché poi si finisce sempre lì ma allora cosa vuol dire questa etichetta c'è tutto qui sì poi naturalmente la lettura delle etichette come diceva lei in dettaglio è molto complicata e complessa e ci vuole anche un attimino di attenzione però la cosa fondamentale è appunto quella della scadenza che non ci vuole tanto per capire bene e anche scegliere i cibi che stanno per scadere nel frigorifero prima quelli e poi quelli che hanno una data di scadenza più lunga c'è anche un capitolo che naturalmente per le casalinghe è interessante la cucina con gli avanzi che sembra un po' passata di moda ma anche questa offre tante possibilità per non dover sprecare allora intanto non l'ho scritto io faccio subito gli ultimi due capitoli in particolare sono a cura di una professoressa dell'università di Trento e della fondazione Mach Ilaria Pertot che si occupa anche di microbiologia alimentare di igiene degli alimenti e di patologia vegetale ma lei ha fatto due parti secondo me molto originali per questo ho deciso poi di inserirle nel libro dalla parte a mio avviso più qualificante perché abbiamo voluto abolire il termine avanzi ed è una sua idea cioè gli avanzi non esistono più infatti l'ha chiamata la cucina delle piccole cose perché lei propone due cose sempre con questo scadenzario settimanale il sabato e la domenica il sabato perché appunto ogni giorno c'è una qualcosa il sabato ti insegna a coltivare in casa è incredibile quello che si può fare ma non occorre avere diciamo un orto in casa che non possiamo avere puoi avere una terrazza un balconcino un davanzale anche niente arriva anche a spiegarti come fare i germogli e con queste piccole coltivazioni diremmo così casalinghe ti le utilizzi per diciamo cucinare poi la domenica se eventualmente ma non dovrebbe succedere ma se hai cucinato non è un avanzo hai cucinato un pochino di più non è venuta tua sorella a pranzo tuo figlio era un momento inappetente e ovviamente ti insegniamo prima come conservare fino alla domenica in modo che quel prodotto perché nulla deve finire nella spazzatura che sia chiaro nulla cioè deve essere vuoto e allora mette assieme per l'appunto diciamo questa autoproduzione che peraltro abbellisce anche la casa la rende un po' più verde insomma e parla anche un po' della cura delle piante dell'effetto che ha un po' sulla manualità e sull'aspetto diciamo psicologico e poi questa cucina la domenica uno pensa appunto alla cucina domestica alla casa che sostanzialmente diciamo finisce in bellezza la settimana per ricominciare il lunedì con la lista diciamo della spesa e un'altra settimana e ti dà anche l'idea tutto questo di circolarità cioè un po' la nostra economia domestica circolare che torna diciamo su se stessa ma in realtà va avanti facendoci star meglio sì economia circolare penso che ci sia anche un cenno sul compostaggio domestico questo naturalmente è un tema abbastanza complesso sicuramente non tanti si fidano a buttarsi in questa avventura perché il compostaggio sembra sempre anche cibo scaduto che forse ha anche un odore eccetera beh io il compost ce l'ho a casa ma il compostaggio domestico in questo caso è inteso come quello sul balcone o serve un giardino che possibilità possiamo avere possiamo si può fare anche sul sul balcone ci sono metodi che poi sono descritti chiaramente che possono portare a quel poco di uso che si fa a livello domestico per le nostre piccole piccolissime culture diciamo è un è un'attenzione in più che possiamo avere però poi nella raccolta dell'umido per dire se c'è l'umido e se non siamo riusciti a fare la nostra piccola cultura domestica oppure se non abbiamo neanche diciamo ed è possibile un balcone un terrazzo un davanzale e passiamo i germogli certamente lì non non ti serve però entri nella raccolta differenziata da seguire e anche lì tanti consigli perché il vero problema è dove mettere gli imballaggi io ho fatto per cinque anni il presidente della fondazione Macca San Michele all'Adige e vivevo dunque venivo ogni volta ogni settimana e vivevo in due città due sistemi di raccolta diversi dei colori dei bidoni della spazzatura diversi io vi dico la verità che certe volte altro che chilometro zero mi portavo la spazzatura da un posto all'altro perché sbagliavo giorno adesso lei ride ma adesso è tutto prescritto però mi è successo così dovevo proprio programmarmi mentalmente perché davvero giorni diversi bidoni diversi ecco però è uno sforzo minimo poi dopo mi sono abituato non mi ci è voluto diciamo molto insomma per dire io non so se hai letto l'introduzione l'ho chiamata il risveglio della scarola e dove essere il titolo del libro perché svegliare la scarola e racconto effettivamente è successo veramente passando da un frigorifero all'altro è una cosa utile da fare se si vive in due città e fare la fotografia perché poi quando comincia ad avere una certa età come me non ti ricordi più cosa c'è in uno e cosa c'è nell'altro e passando da Bologna a San Michele sono arrivato diciamo una sera molto affamato e ho trovato nel frigorifero una scarola che era diciamo molto addormentata ecco lo risvegliate da lì è partito tutto diciamo il metodo spreco zero è un modo un po' se volete scherzoso per dire che con un po' di consapevolezza di diciamo di impegno anche relativo poi queste cose ti entrano dentro le fai sempre e alla fine stai meglio sostanzialmente vivi meglio questo è l'obiettivo infatti lei ha già un po' accennato il tema degli imballaggi volevo appunto chiedere anch'io perché ho visto che c'è anche un capitolo una parte insomma che parla degli imballaggi e naturalmente lì è difficilissimo la raccolta differenziata appunto varia da comune a comune guardate guardate gli imballaggi allora intanto però spezziamo una lancia a favore degli imballaggi perché molti il nostro capitolo su imballaggi è molto equilibrato nel senso l'imballaggio serve senza imballaggio non è che puoi comprare tutto scuso senza imballaggio il prodotto lo perdi non riesci a trasportarlo serve la conservazione però dipende che tipo di imballaggio se parliamo di imballaggio sostenibile dobbiamo valutare e io non sono un fan del cartone rispetto alla plastica perché sono un ricercatore e so che si può misurare la sostenibilità ci sono i cicli di vita dei life cycle assessment che ti consentono di fare una misura ecco quello che noi cerchiamo però di di far capire è che diciamo dobbiamo prendere un imballaggio sostenibile quindi non ti dico quale deve essere rispetto a quel prodotto e però deve essere veramente sostenibile e io te lo misuro e poi però io voglio che abbia una seconda dita e quindi io devo sapere dove lo metto e lì ci sono tutti i consigli possibili immaginabili ma spesso non è chiaro per niente e allora io vi dico qual è la soluzione io purtroppo lo devo dire so che non è politicamente corretto io guardo l'imballaggio quando vado a fare gli acquisti se non mi è chiaro dove metterlo se non c'è scritto se è un poliacopiato che mi devo mettere lì a dividerlo io passo ad altro presiduo io mi spiace dirlo ma perché io voglio che ci sia chiarezza poi io ti insegno tutto quello che so però ci deve essere chiaro anche diciamo nell'etichetta perché poi se non è così dopo per quanto tu ti impegni e poi dopo non sai dove metterlo allora qui dovremmo lavorare poi perché io sono stato per tanti anni presidente del comitato tecnico scientifico del ministero dell'ambiente per il piano di prevenzione dei rifiuti ma perché mi occupo di sprechi alimentari quindi sono entrato nel tema e mi sono chiesto ma per quale ragione io appunto a Bologna ho un sistema a Trento un altro in un altro paese perché a Monte diciamo c'è un sistema di riciclaggio chiamiamolo così diverso ecco un po' di omogeneità ci farebbe bene perché questo ci aiuterebbe a comportarci nello stesso modo diciamo ovunque e non a cambiare però diciamocelo comunque guardando i dati della raccolta differenziata nel nostro paese non è che siamo troppo indietro ecco però possiamo migliorare secondo me si può diciamo facilmente migliorare io per dire adesso ovviamente sperimento tutto e sto molto attento a non farmi fotografare perché ho paura visto che sono un po' persona esposta poi se sbaglio dopo e quindi certe volte vado di notte a portare via i rifiuti però ecco io l'indifferenziata veramente diciamo quasi quasi non quasi non ne produco diciamo poi un altro credo torno un attimo alla pandemia perché dobbiamo trovare delle cose positive insomma io mi sono reso conto lo sapevo già da prima perché queste cose le dico le studio le scrivo da tempo che una parte dell'economia è inutile cioè produciamo delle cose assolutamente inutili che non ci servono e dietro le quali però ci sono delle aziende dei lavoratori dei salari degli stipendi e così via io mi sono veramente reso conto adesso una mia piccola economia l'ho chiamata economia pleonastica che l'80% delle cose diciamo non sono per me necessarie e non le prendo più per prima dicevamo l'usa e getta l'obsolescenza programmata quella percepita cioè non è che si parla da oggi di queste cose però non abbiamo mai cambiato questo sistema diremmo così di produzione perché io devo rottamare una macchina che va ancora perché devo far lavorare un'industria della macchina credo che questa è l'occasione diciamo per andare verso una transizione ecologica per andare verso un'economia utile non per eliminare dei posti di lavoro che sia chiaro ma per diciamo andare nella direzione delle cose che servono realmente inutile che mi riempia di cose che poi non uso adesso l'ho detta molto velocemente però questo mondo diremmo così a spreco zero che riguardi anche i rifiuti secondo me è possibile e infatti poi diciamo lo spreco è qualcosa di come posso dire di non necessario rifiuto vi faccio un esempio perché molte volte mi chiedono ma qual è la differenza me lo chiedono soprattutto quando sono in convegni diremmo così o in riunioni europee internazionali dove si parla in inglese ed è waste ecco l'italiano è bello e anche il tedesco credo perché hai due termini diversi spreco e rifiuto vi faccio un esempio che lo faccio ai miei studenti ma lo faccio anche in questi diciamo consessi per far capire acquisti uno yogurt e lo metti in frigorifero cerchi di vai sullo scaffale a proposito di etichetta di scadenza vedi che quelli che scadono prima sono davanti e tu lo prendi dietro fate questo gesto con la mano e andate a prendere quello che scade dopo fate tutti così anch'io ho fatto così attenzione che poi dopo ve li mescolano e quelli che scadono prima li mettono dietro occhio state attenti quindi avete fatto un gesto anche diciamo consapevole cioè io me lo porto a casa è una scadenza più lunga così non lo spreco poi buttate tutto nel frigorifero ci mettete la scarola sopra quello yogurt e a questo punto riappare magicamente ma è scaduto e voi direte eh no è scaduto oddio cosa mi succede magari da un giorno e lo gettate via questo è spreco state gettando via il vasetto di plastica l'alluminio sopra il packaging di cartone ma soprattutto quello che c'è dentro il contenuto oltre che il contenitore che è yogurt e non vi faccio il ciclo di vita dello yogurt perché lo sapete meglio di me cosa c'è dietro poi se invece vi siete comportati correttamente la scarola sta dove deve stare la scarola in basso e lo yogurt sta più in alto e appare fate ruotare i prodotti e ve lo mangiate cosa fate? Mangiate lo yogurt che fa anche molto bene poi gettate via la plastica nella plastica con l'alluminio almeno Bologna si mette assieme la carta il cartone con la carta e quello è rifiuto differenza appunto fra contenuto e contenitore ecco questo ti fa capire che è una questione di comportamento e che quindi questa differenziazione è importante e questo non significa non consumare più ma semplicemente consumare in modo corretto ma vale per tutti gli altri beni adesso vedete io sono vestito a proposito di prendiamo un altro bene io sono diciamo elegante relativamente insomma da qua in su però io diciamo in questo momento non ho le scarpe me lo dico ecco se fossi venuto lì a Bolzano avrei consumato sicuramente le scarpe perché io amo camminare e invece adesso di comprarmene una ogni cinque anni se vado avanti così l'avrei sostituita ogni anno gli ho fatto un esempio per dire poi dove insomma ecco dove può andare l'economia però diciamo andiamoci assieme in modo che che questo non generi poi degli impatti negativi perché non voglio che la gente non lavori più che non consumi più ecco però dipende cosa sì appunto il problema dell'economia centrale è sempre quello che ci sono questi apparenti interessi economici e anche appunto di posti di lavoro che remano un po' contro ma forse si riesce anche a trovare una via di mezzo che non deve essere un consumo sfrenato guardi mi viene in mente ieri abbiamo fatto questa lunghissima perché è durata tre ore cerimonia diciamo perché c'era il ministero dell'ambiente della salute il World Food Program lanci per premiare diciamo le le categorie di questo premio vivere a spreco zero allora è cresciuto negli anni l'ottava edizione dicevo prima ne abbiamo c'è una giuria che le seleziona sono autocandidature candidature della giuria candidatura di persone e crescono un giornalista che forse conosciuto che fa parte della giuria è intervenuto e che da otto anni lavora diciamo con noi per la selezione si chiama Antonio Sonciullo scrive su Repubblica ha detto una cosa che mi ha diciamo colpito ed è la strada giusta ha detto guardate che io l'ho visto crescere adesso abbiamo l'imbarazzo di scegliere perché dobbiamo scegliere un vincitore poi ci siamo inventati la menzione perché c'è un altro bel progetto ma questa è l'Italia che c'è sta crescendo e fra un po' se andiamo avanti così diciamo la parte positiva sommergerà quella negativa e sarà prevalente perché conviene a tutti in realtà abbiamo premiato delle imprese che si sono inventate delle cose meravigliose ma che fanno impresa solo hanno cambiato il modello di business sono entrati nella sostenibilità c'è quella mi viene in mente quella che fa non è neanche tanto originale quattro ragazzi del Politecnico di Milano fanno la birra con il pane è un esempio classico di economia circolare ce n'erano 4-5 in Italia almeno abbiamo scelto quelli più brillanti diciamo quelli più che avevano fatto una cosa diremmo così veramente completa il pane invenduto è una cosa drammatica non avete neanche idea cioè è il terzo prodotto dopo la frutta la verdura che si spreca ed è insomma ed è un problema questo bene loro vanno in giro per le panetterie lo recuperano e fanno una birra diremmo così sostenibile con un prodotto che è anche simbolico se volete ma ci lavorano la vendono pagano degli stipendi e al di là che il piacere di premiare quattro ragazzi giovani che hanno fatto una start up ti fa capire che basta che cambi verso invece di andare a diritto produrre 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 consumare 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 rottamare rottamare basta non è che lo dico io è da 20 anni che c'è una letteratura infinita di scienziati ricercatori economisti che scrivono queste cose qua allora bisogna invertire diremmo così c'è a un certo punto lui diceva sarà da ha detto non so se ha detto da sfigati ma insomma una roba tipo questa cioè produrre in modo insostenibile non sarà più sostenibile non lo vorremmo più e noi abbiamo un potere noi consumatori abbiamo se lo possediamo il potere d'acquisto possiamo scegliere io vado sui prodotti sostenibili devo essere ovviamente informato su questo cioè io sarà perché sono ottimista sempre diciamo però vedo la strada giusta e forse questa pandemia io spero acceleri questa transizione non la freni perché se la se la dovesse frenare sarebbe veramente drammatico sì infatti è una speranza che abbiamo anche noi e comunque una domanda che a noi viene posta spesso e forse se è il consumatore che tiene mano questo potere di cambiare qualcosa o se è anche o se è soprattutto la politica che deve cambiare le regole e naturalmente non le voglio la mia risposta vabbè ma la sua mi interessa la mia assolutamente il consumatore fra l'altro non credo io ve lo devo dire francamente nell'approccio normativo c'è per esempio il farm to fork che il documento europeo di visione della commissione molto bello diciamo dove per dire c'è anche questo obiettivo di arrivare a un quarto della superficie agricola europea a produzione biologica sullo spreco c'è un capitolo obiettivo ridurlo alla metà come vi dicevo prima è da lì che citavo diremmo così la fonte con un approccio normativo le leggi sono importanti ma non bastano cioè è il comportamento è l'educazione alimentare a monte che ti aiuta davvero a cambiare il comportamento allora tanto cambiamo il termine consumare vuol dire distruggere ecco io non sono un consumatore io mi chiamo ve lo dico faccio auto in fruitori io fruisco di un bene un bene non una merce è già diverso fruire vuol dire godere di quel bene consumare vuol dire distruggere in italiano portare a termine è sbagliato come termine i consumatori spesso sono oggettivamente dei distruttori poi io c'ho un potere sono io che spingo il carrello la domanda che mi sono fatto anni fa ma non è il carrello che spinge me abbiamo fatto una sorta di spettacolo di conferenza scenica con il mio amico Massimo Ciri e fra l'altro l'abbiamo fatto anche a Bolzano qualche anno fa si chiamava dialogo sullo spreco ma scritto meno spre più eco inizialmente io e Massimo eravamo dentro un carrello ma insomma inizialmente poi era veramente scomodo e la tesi era c'è qualcuno che spinge per noi il carrello c'è un motorino che ci porta fra gli scaffali dove vuole lui ecco riprendiamoci la guida del carrello si chiama potere del consumatore potere d'acquisto voto col portafoglio citato nel libro è una teoria pratica di un mio collega e amico dell'università di Tor Vergata di Roma Leonardo Becchetti che ha fatto dei lavori noi li abbiamo ripetuti assieme a lui proprio su come il consumatore esercita la sua influenza scegliendo l'acquisto solo che devi essere diciamo consapevole devi avere la capacità di scelta molto spesso l'abbiamo abdicata e andiamo mettiamo i prodotti uno sopra l'altro la pubblicità il marketing il 3 più 2 il sottocosto cioè tutte le tecniche di vendita ma siamo noi che dobbiamo è inutile che diamo la colpa a qualcun altro ai supermercati ai poteri forti all'uomo ragno cioè cominciamo da noi ecco poi la politica ci può seguire ma se aspettiamo che la politica faccia una legge che poi dopo venga applicata e non entra nella nostra cultura cioè non funziona io dalla mia esperienza ho visto che non funzionano le leggi le istituzioni la politica sono importanti e che si è chiaro molto molto però cominciamo da noi ma tanti mi dicono appunto che essere un consumatore consapevole è in qualche senso faticoso bisogna informarsi bisogna anche soprattutto anche nel tema ecologico ci sono contraddizioni nel senso più ecologico acquistare un prodotto con poco imballaggio o biologico con tanto imballaggio regionale oppure biologico che proviene dalla Nuova Zelanda quindi come consumatore consapevole ti si apre un mondo dove bisogna prendere certe scelte e tanti mi dicono a furia di dover scegliere a un certo punto dicono non non scelgo neanche più scelgo la strada più semplice e non farmi troppe troppe domande non potrebbe essere un pericolo anche quello un po' lo è è un'ottima osservazione questa però credo che una volta che capiamo io l'ho capito ormai tanti anni fa che diciamo mangiare soddisfa un bisogno essenziale nell'udibile se non mangio non vivo peraltro non solo mi sostiene dal punto di vista diciamo energetico ma anche mi può gratificare quindi un pensiero sul cibo io credo che ognuno di noi deve farlo e quando capisci che a monte c'è qualcuno che lo produce che ricava un reddito e che c'è un certo impatto sull'ambiente pensate ai prodotti fitosanitari quelli che si dicono pesticidi per non arrivare diciamo all'uso delle risorse e poi a valle questo ha un effetto sulla mia salute pensate tutti gli studi che hanno fatto sono uscite da tutte le parti sulla dieta mediterranea e la longevità cioè quanto ci allunga la vita in salute e io penso che valga la pena un po' investire anche dal punto di vista economico sul cibo quindi siamo disorientati ci sono troppe informazioni però un po' ma non troppo io quindi non credo neanche nell'eccesso di informazione perché lo vedo non so per esempio a Bologna lavoriamo molto con le mense scolastiche e c'è un eccesso diciamo di queste commissioni mense dei genitori che vogliono delle cose impossibili tutto biologico poi trovano la farfallina nel biologico perché c'è la farfallina e cade il mondo se vuoi biologico potresti anche accettare la farfallina perché si usano diciamo la lotta biologica il mio collega Giorgio Celli l'ha inventata con con gli seti utili e c'è veramente un eccesso adesso vi do un esempio non c'è nel libro però ve lo do lo stesso perché è uno studio che abbiamo fatto da pochissimo e l'ho diciamo presentato in questa magistralis che ho fatto per la settimana della cucina italiana nel mondo ed ero virtualmente all'università delle Wisconsin ma ero nello stesso posto dove sono adesso in verità e abbiamo fatto una tesi di laurea io insegno a dietistica a Bologna anche a scuola di medicina per capire se mangiare mediterraneo la dieta mediterraneo costa di più che la dieta diciamo corrente degli italiani la dieta che facciamo abitualmente c'è questa sorta di come posso dire di correlazione mangiare bene costa molto io lo credevo è la seconda tesi che facciamo già con la prima avevo smontato questo mito ma con questa seconda allora ve la sintetizzo così abbiamo preso un consumatore medio 2000 calorie al giorno tre pasti e due spuntini e poi l'abbiamo mandato a fare la spesa nello stesso luogo in un supermercato e abbiamo guardato la dieta corrente ed è venuto fuori che la dieta corrente si chiama indice di aderenza alla dieta mediterranea ecco fate conto che su una scala da 0 a 24 la dieta corrente degli italiani è 12 cioè siamo a meno della metà grassi insomma molto lontani e questa è stata la prima sorpresa ecco mangiare come stiamo mangiando ci costa quel consumatore che va e tira giù i prodotti dagli scaffali e li mette nel carrello 53 euro poi a quel punto abbiamo costruito una piramide teorica perché non mangiamo mediterraneo che però la rispetta l'abbiamo costruita in realtà non arrivava non siamo riusciti ad arrivare non so perché l'ha fatta la tesista con i nutrizionisti io sono un economista quindi ho guardato la parte economica è arrivata a 22 su 24 quindi proprio non è perfetto però molto molto vicino a questo indice di aderenza beh glielo ho fatto fare tre volte il calcolo costa 47 euro cioè di meno di meno di meno e qual è il punto questi 7 euro alla settimana cioè io l'ho fatto rifare dico impossibile invece è così guardato i dati 7 poi per 52 quante sono le settimane sono soldi che risparmi non solo le risparmi tu se poi è vero tutti gli studi clinici dimostrano che mangiare mediterraneo ti allunga la vita stai più in salute diminuiscono le malattie metaboliche quelle cardiovascolari il diabete eccetera eccetera hai una minore spesa sanitaria tu e il sistema poi se è vero altra dimostrazione che la dieta mediterranea la piramide se la ribalti ha un impatto ambientale cioè gli alimenti alla base consumano molto meno risorte di quelle di quelli diciamo sulla cuspide verso verso la cima ecco ma noi quindi il tema qual è? mangiare bene non costa di più e non lo sappiamo quindi torno al punto di prima educazione basta saperlo a quel punto devi sapere cosa scegliere però per dire faccio un esempio molto concreto che riguarda diciamo una catena della grande distribuzione qui a Bologna l'ho vista nella pubblicità poi nella dieta mediterranea cosa c'è? l'olio extravergine di oliva da consumare da utilizzare in una quantità diciamo moderata perché ha delle calorie e c'è nella dieta allora io lo vedo in offerta in una di queste grande da un olio extravergine di oliva ottenuto a freddo il termine dal punto di vista della tecnologia alimentare è spremuto a freddo ottenuto a freddo è così una specie di di assonanza non è la stessa cosa a 3 euro al litro voi capite che oppure la stessa cosa potrei dire per un vino a 2 euro ecco uno si dovrebbe fare la domanda perché anche nella dieta mediterranea c'è il vino come è possibile c'è una vigna da qualche parte cioè è possibile avere un vino a 2 litri o un olio a un litro scusatemi a 3 euro se c'è un ulivo una raccolta una molitura una spremitura a freddo poi il come si chiama il vetro la bottiglia il trasporto cioè c'è qualcosa che non va allora secondo me diciamo non è più assolutamente vero che mangiare diciamo bene costi di più ma occhio che se costa troppo poco c'è qualcosa che non va allora ci deve essere un giusto prezzo poi per tutta la filiera per chi produce per chi consuma per questo non vorrei andare agli estremi alla super dieta al super food alla nicchia allo slow a qualcosa ma ovviamente che può essere diciamo un percorso ma quello che io voglio fare come dicevo prima è tirare su quel junk food quel cibo basso che poi è il danno per la nostra salute e se so che posso mangiare il Mediterraneo seguito da questa dieta pagando oltretutto di meno beh io io comunque mi informo ecco perché poi capisco che in questo passaggio diciamo anche una sedimentazione della cultura e quindi dovrei iniziare con l'educazione alimentare nelle scuole a partire dalle materne vorrei dire neanche dalle elementari e quindi prendere le famiglie insomma c'è un grande lavoro da fare che noi cerchiamo di fare io spero che così anche la politica le istituzioni si accorgano non che non lo facciano e non voglio dire che non ci sia che non c'è nulla nel nostro paese c'è c'è molto però deve diventare secondo me un tema ecco più centrale più centrale perché si chiama prevenzione agire prima che il danno sia fatto quando hai diciamo il 40% dei bambini in età adolescenziale obesi sono malati e si porteranno dietro delle patologie e fra l'altro se andate un occhio alle statistiche dell'ISTAT viene fuori che guarda caso dove è la percentuale più alta dei bambini diciamo sovrappeso tendenti all'obesità in Campania cos'è la Campania la regione d'Italia naturalmente la sede diremmo così della dieta mediterranea cioè lì che è stata scoperta da Ansel Kiss nel parco del Cilento c'è una bella contraddizione questa non so se mi spiego ecco su queste cose secondo me dovremmo riflettere e intervenire assolutamente io avrei altre domande però adesso non so se c'è anche da parte del pubblico qualche domanda sì non so se ci sono appunto dei non so come chiamarli telespettatori ascoltatori partecipanti non so neanche i tempi che abbiamo come non ce lo siamo neanche ci siamo con i tempi non ci sono domande in chat né qui in Zoom né su sullo streaming di Facebook qui appunto se qualcuno dei presenti vuole intervenire ma quanto tempo abbiamo solo per saperlo e perché ho fame scherzo io ho tutto il tempo a fuori di parlare dicevo tutto il tempo che volete ma solo per sapere se c'è un così una cornice quel tempo abbiamo terminato al tempo abbiamo abbiamo battuto l'ora delle 19 ah lo vedo adesso va bene però abbiamo il tempo se c'è qualche domanda oppure per tirare qualche conclusione sì appunto molto volentieri domande da parte degli ascoltatori se no io volevo solo ma questo forse è una cosa più specifica ma che ci tengo molto perché noi appunto lavoriamo anche su questo tema perché lei diceva che i prodotti devono avere anche il loro prezzo se no qualcosa nella filiera non è andata bene o qualcuno non ha guadagnato poco o niente e soprattutto anche per la produzione di carne polli e quant'altro dove secondo me questo incide ancora molto di più perché incide anche sulla sull'allevamento stesso e quindi su come vengono gestiti questi questi allevamenti non so se sì sì ma io diciamo nell'ambito così di quella piramide nutrizionale che chiamiamo dieta mediterranea ma in realtà la faula definisce dieta sostenibile c'è la carne in piccole porzioni e proporzioni e a monte diciamo presuppone un allevamento sostenibile dove il benessere animale ha un senso e viene realizzato quindi io non sono fautore di una dieta se prendete i libri sulle diete trovate qualsiasi cosa ma perché la dieta viene interpretata come restrizione calorica in realtà la dieta è uno stile di vita ci deve essere un po' di proteina animale in funzione poi delle esigenze del tuo diciamo organismo io ho un'età in cui diciamo la carne direi che è veramente poco necessaria io la sostituisco personalmente molto con le proteine diciamo vegetali con i legumi ecco però a monte ci deve essere diciamo una sostenibilità degli allevamenti perché guardando il dato globale poi in letteratura trovate anche percentuali diverse l'allevamento zootecnico è una causa importante del diciamo dei gas climalteranti se non altro per il diciamo il metano enterico che producono i capi zootecnici in particolare i bovini ovviamente faccio riferimento a questo e l'agricoltura da un certo punto di vista è diciamo autrice vittima contemporaneamente dell'effetto diciamo del riscaldamento globale perché lo produce ma ne paga anche le conseguenze e allora se devo dire perché mi rivolgo a tutti noi fruitori perché tutti i produttori sono una parte del sistema e i quali produttori dobbiamo assicurare anche un reddito soddisfacente perché altrimenti non producono quindi dobbiamo essere disposti a pagare qualcosa se viene prodotto bene e non a livello di massa industriale però è con la nostra dieta che produrremo davvero un cambiamento dieta come stile di vita è intesa non solo il cibo anche il movimento perché tu puoi mangiare benissimo seguire perfettamente l'aderenza della piramide 24 su 24 poi se stai fermo come me 8 ore al giorno davanti allo schermo non hai un grande beneficio quindi porzioni e proporzioni a ognuno il suo perciò il tema carne sostenibilità è centrale e quindi senza arrivare all'estremo del vegetariano che può essere una scelta etica o del vegano altrettanto etica e sono tutte rispettabili nell'equilibrio io vedo proprio quella piramide che peraltro diciamo caratterizza la nostra area quella del bacino mediterraneo ma quando stavo su a San Michele avevo proposto poi purtroppo per tante ragioni non è andato forse molto avanti un progetto l'avevo chiamata dieta alpina per far capire che quella piramide ma è la FAO che lo dice la puoi costruire con prodotti locali in altri territori e la dieta è sostenibile per l'appunto poi la chiami alpina la chiami mare monti la chiami asiatica la chiami mediterranea ma quello è e dentro c'ha una produzione sostenibile compresa la carne assolutamente non so se adesso possiamo ancora in qualche modo concludere abbiamo toccato tanti temi e si potrebbe parlare secondo me ancora tantissimo però non so la conclusione potrebbe essere vabbè questa della dieta sostenibile è comunque un bel concetto che è questo dello stile di vita che si può sicuramente trasmettere molto bene anche ai consumatori credo sì ecco guardate allora vi lancio così un piccolo una piccola sfida da un certo punto di vista perché assieme a questa collega che vi citavo prima che ha scritto gli ultimi capitoli del libro abbiamo fatto un progetto che si chiama e poi visioni di futuro e poi la domanda che ci facciamo tutti poi cosa succederà e siamo partiti da un dato nessuno ce lo chiede vi ricordate durante il lockdown soprattutto ma anche adesso tutte le task force escludiamo quella medica che va come dire seguita alla lettera però quelle di ripresa di rilancio quella nazionale quelle regionali quelle a Bologna addirittura nel mio quartiere ne hanno fatto una e tutti ti calano dei modelli dall'alto che non capisci bene quello che devi fare tutte prescrizioni ma noi ci chiedono quello che che vorremmo essere che vorremmo fare allora abbiamo lanciato questo progetto che si chiama e poi abbiamo scritto un racconto che si chiama che ora è la fine del mondo che è stato pubblicato online come ebook dall'edizioni ambiente questo racconto per accedervi devi compilare sette scenari sono sette scenari sugli stili di vita e ti devi proiettare da qui a cinque anni come mangerai fra cinque anni come ti vestirai come ti muoverai e così via dopodiché questo racconto fra l'altro lo dico perché si svolge in un ghiacciaio nelle Alpi secondo me chi lo legge poi lo riconosce e sono due protagonisti un uomo e una donna che lo salgono con le pelli fanno una gita di sci alpinismo e partono da una notizia scientifica che forse avrete letto che uno studio del CNR afferma che fra 25 anni i ghiacciai si fonderanno fusione dei ghiacciai allora i due partono finché hanno fiato e cominciano a dialogare interrogandosi se fra 25 anni anzitutto loro saranno ancora lì a salire ma se ci sarà il ghiacciaio e da lì fanno una una discussione diciamo che prende molti temi della nostra della nostra vita diciamo scientifica come discussione però resa molto semplice dopodiché succedono tante cose passano la notte in un bivacco e la notte dell'ultimo dell'anno e gli sorprende un giovane che è salito e si è fatto un giro dopo dopo capodanno e cominciano a dialogare gli cambia completamente la prospettiva di questi due diciamo non più giovani diciamo questo ragazzo gli dà una visione completamente diversa rispetto al futuro dopodiché scendono e notano qualcosa di strano è successo qualcosa di strano non c'è più nessuno al parcheggio non c'è più fila a scendere le strade sono sgombe è successo qualcosa il racconto non finisce ma è aperto il finale allora abbiamo il finale lo puoi scrivere tu è un progetto che l'abbiamo chiamato di crowd foresight di visione futura e di crowd writing massa che scrive e si proietta nel futuro noi adesso stiamo raccogliendo gli scenari da una parte e i finali e li elaboreremo per vedere dove vogliamo andare perché io sono sicuro e li sto leggendo in realtà ed è assolutamente vero adesso siamo a metà diciamo del progetto anche direi non a metà un po' prima della metà ma cominciamo a vedere i risultati c'è una gran voglia non solo di scrivere ma di dire la propria le sappiamo già sappiamo dove vogliamo andare quello che noi adesso faremo elaboreremo questo finale condiviso dove ci vogliamo vedere proiettati ed è un modo anche appunto per riflettere per studiare un po' perché questo dialogo è frutto di un lavoro scientifico anche se l'abbiamo molto semplificato ma non banalizzato per quanto si possa parlare salendo distanziati con le pelli di foca su un ghiacciaio ecco però è solo per dire che dobbiamo far partecipare le persone come chi ci ascolta dandogli degli strumenti che abbiamo a disposizione ma senza essere prescrittivi ti devi fare questo devi consumare meno carne no non devi niente pensaci io ti do gli strumenti poi decidi tu dove andare a comprare cosa comprare cosa mangiare io non avrò mai il modello da calarti dall'alto ecco mi piacerebbe se andate c'è un sito credo anche abbastanza semplificato nel senso immediato www.epoi.eu lì c'è tutto il libro si scarica gratuitamente e può essere un'occasione davvero di riflessione e di partecipazione grazie mille ci andrò subito grazie molto interessante e bella visione anche noi siamo parte del futuro sì sì noi ci siamo e dobbiamo diciamo scriverlo e andare lì questo periodo che un po' ci disorienta secondo me è l'occasione giusta per farlo e infatti l'abbiamo scritto durante il lockdown da due posti diversi usando la tecnologia queste piattaforme e facendo un dialogo che ci ha fatto riflettere anche su quello che stavamo vivendo che stavamo vivendo tutti ma per reagire in modo propositivo no? crowd massa massa critica che fa una critica costruttiva ma se massa poi orienta il cambiamento come la spesa diciamo il voto col portafoglio se vado ad acquistare il prodotto sostenibile so che è sostenibile poi diciamo chi lo offre cioè l'impresa andrà in quella direzione ecco io credo che le leve per il cambiamento le abbiamo noi poi la politica le istituzioni ci seguiranno faranno le norme giuste ma secondo me avranno un attimo dopo è positivo non per sminuire la portata delle istituzioni della politica anzi sì bellissimo bella visione grazie ecco guarda Marco ha già messo nella chat si vede che è smart lui non sarei riuscito a farlo subito io ho scritto alla vecchia maniera sul foglio ma comunque va bene direi che possiamo chiudere sì grazie mille professor Segre grazie dottoressa Brate e anche tutti gli altri partecipanti vi ricordo l'ultimo appuntamento previsto per domani alle ore 16 con l'evento le vie per un pianeta sostenibile prospettive scenari futuri organizzato da Uppad Palladio e Cessfor grazie mille a tutti grazie allora buona serata buona serata e grazie e professore se mai le posso contattare assolutamente ma quanti sono collegati per avere un'idea in questo momento sono 17 qui su zoom siamo in 17 qui su zoom e in 3 3 stanno seguendo lo streaming ok bene sì sì mi contatti assolutamente certo sono ben disponibile anzi quando poi ci si potrà muovere io vero sicuramente e capita in zona sì perché anch'io cammino volentieri per cui forse adesso ho fatto spesso delle riunioni camminate per non stare sempre solo davanti allo schermo è un ottimo è un ottimo modo anch'io ho usato questo sistema peripatetico diciamo che i filosofi usava adesso secondo me è molto è molto bello e in fondo il dialogo che ho fatto con la collega anche se non siamo noi ovviamente i personaggi aveva lo stesso senso essere in ambiente naturale infatti l'ambiente naturale è quello che dove si vede più il cambiamento il ghiacciaio che si restringe e ci è sembrato più che una metafora il luogo giusto per dialogare no no io sono ben disponibile quando vuole ci sentiamo anche se siamo scambiati i numeri bene va bene grazie grazie di nuovo buona serata arrivederci ciao a tutti ciao ciao